Uccide l'anziana madre, lascia il cadavere sul balcone, poi si barrica in casa e decide di togliersi la vita con la stessa pistola con cui aveva compiuto l'omicidio. Orrore familiare lunedì sera nella frazione Cesano di Senigallia, a pochi metri dal confine Comarotte, la provincia pesarese. Ornella Veschi, vedova di 87 anni, è stata uccisa attorno alle 19 con un colpo d'arma da fuoco esploso dal figlio di 51 anni, Marco Rossetti. Dopo aver sparato alla donna, ha avvertito uno dei due fratelli del suo gesto. Intervengono carabiniere e polizia che tentano una negoziazione con Rossetti, barricato in casa con il cadavere della madre lasciato sul terrazzo dell'abitazione. Attorno alle 20.30 però l'uomo decide di farla finita sparandosi. Gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica dell'omicidio-suicidio ed ora cercano di far luce sul movente. Rossetti soffriva di crisi epilettiche, problemi psichici, tanto da essere seguito da dieci anni dal servizio igienementale di Senigallia. Amava le armi e le sfoggiava anche sui social. Il porto d'armi però gli fu revocato due anni fa e le indagini stanno cercando di appurare come possa essere entrato in possesso illegalmente di un'arba da fuoco.